Ciao, sono Angela. Voglio raccontarvi una storia che parla di praticità, semplicità di utilizzo e di servizio. Una storia che parte da voi e da quello che fate. Ci sono i vostri clienti con tante richieste e tanti bisogni. C'è la vostra farmacia, sempre più curata e organizzata. E poi i rappresentanti, i fornitori, i merchandiser. Quanti sono? Per non dimenticare il controllo degli ordini, delle fatture, i pagamenti e tanto altro ancora. È ora di pensare a come lavorare meglio, magari con uno strumento utile ed intelligente che ve lo possa permettere. Che ne dite di un portale integralmente dedicato a voi, semplice ed aggiornato in tempo reale, dove trovare sempre tutto ciò che vi serve? Utile, eh? E sarà ancora più utile scoprire come funziona. In fondo sono qui per questo. Seguitemi, così insieme scopriremo come è semplice e conveniente usare il portale Angelini. Siete pronti? Portale Servizio Clienti Angelini. La comodità al vostro servizio. Presto online per voi, il nuovo catalogo, i piani media e gli spot TV, le pillole di formazione. Buona navigazione e arrivederci!